chakra e kundalini come risvegliare la sessualità allora la kundalini uno dei modi più semplici per pensare alla kundalini è pensarla in termini di chakra la kundalini ovviamente è un'energia come ho già spiegato in un altro video e si occupa dell'energia shakti dell'energia interiore che noi abbiamo è un'energia che va a rivitalizzare completamente il nostro corpo rigenerandolo risvegliandolo ed è vista nella come dire rappresentata come metafora di un serpente arrotolato un serpente che sale un serpente che si alza un serpente che si alza e si alza lungo la colonna vertebrale andando a diciamo errorare di energia e i chakra cioè i sette centri energetici secondo le tradizioni insomma sono tantissimi e poi nella tradizione induista ne prende in considerazione setta ad esempio la tradizione buddista da ne prende in considerazione prevalentemente cinque comunque in ciascuno di questi centri l'energia scorre da un punto all'altro però alle volte succede che le cose si bloccano quando un centro si blocca non lascia scorrere liberamente l'energia noi non abbiamo la possibilità di sperimentare diciamo quella quella sensazione quella emozione che è collegata all'energia stessa e talvolta diciamo questa energia bloccata genera genera delle sensazioni delle sensazioni molto molto brutte fondamentalmente a volte un'energia bloccata può farci passare una brutta giornata immagina che questi sette centri energetici siano collegati con sette rispettive importanti ghiandole per il nostro corpo quindi questo le ghiandole sono un po il collegamento tra le ghiandole del sistema endocrino sono un po il collegamento tra la parte diciamo grossolana corporea dell'essere umana e la parte energetica la kundalini risvegliando si andrà a riattivare anche queste ghiandole che inizieranno la loro produzione diciamo ormonale andando a rivitalizzare questi sette centri energetici sono i chakra e attraversati dalla kundalini si risvegliano come se queste ruote energetiche riprendessero a girare riprendessero a emanare diciamo energia potente benefica che rivitalizza risveglia tutto il corpo il chakra primo chakra il chakra radice o muladhara chakra chiamato anche chakra segreto dalla tradizione buddista ed è posizionato alla base della colonna vertebrale e influenza tutte le aree della vita legata alla sopravvivenza anche quindi alla sopravvivenza della specie alla sessualità al radicamento e il secondo chakra invece si trova pochi centimetri sotto l'ombelico ed è chiamato anche svadistana e si collega diciamo alla al piacere al movimento al anch'esso parzialmente alla sessualità quindi riportare la cc la kundalini sul primo chakra sul secondo chakra e rivitalizza completamente la sessualità legando le collegate sono ovviamente le gonadi e le ovaie per le donne quindi si ripristina la sessualità come far salire diciamo la kundalini in questi due chakra beh ci sono diverse tecniche intanto è molto importante diciamo mettersi in una posizione comoda rilassata adesso andremo a vedere metto 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 in una posizione comoda rilassata con la schiena retta ma non tesa e poi puoi chiudere dolcemente gli occhi perché chiudere gli occhi perché noi possiamo così entrare in uno stato di rilassamento più profondo quindi chiudi tranquillamente dolcemente gli occhi e mettiti in uno stato di respirazione uno stato profondo uno stato di benessere mente continui ad ascoltare il suono della mia voce porta direttamente l'attenzione sul respiro sull'aria che entra e che esce dei tuoi polmoni e visualizza questo serpente arrotolato alla base della colonna vertebrale che inizia a svegliarsi si si alza si alza sempre di più questo serpente arrotolato si alza sempre di più e inizia a erorare luce energia alla base dell'osso sacro mettendo in movimento mettendo in rotazione la ruota di energia del primo chakra immagina un vortice che ruota vorticosamente un vortice di energia che ruota vorticosamente alla base del primo chakra perché è stato risvegliato dall'energia è stato risvegliato dalla kundalini lascia che questa energia si sviluppi sempre di più si manifesti sempre di più si manifesti sempre di più lascia che questa energia si manifesti sempre di più e puoi sentire e puoi sentire l'energia che si sviluppa l'energia che si manifesta e rivitalizza tutta la tua sessualità amplificando il tuo piacere e adesso questa energia sale ancora di più verso l'alto questo serpente inizia a salire verso l'alto e si alza si alza sempre di più e arriva salendo lungo la colonna vertebrale sotto l'ombelico nel secondo chakra immagina questo questa ruota di energia questo vortice di energia appena sotto l'ombelico ruotare fortemente e irrorare fortemente verso l'alto e verso il basso così in alto così come sopra così sotto energia potente irradiante che va a confermare di rivitalizzare tutta la tua sessualità che si risveglia rifiorisce e si alza dentro di te profondo il desiderio di sperimentare tutta la sessualità impara a lasciarti andare e mentre ti lascia andare tutto questo accade e mentre ti lascia andare tutto questo accade e adesso ti chiedo quando hai percepito questi due centri di energia che irradiano calore alla base della tua colonna vertebrale e sotto l'ombelico irradiano calore irradiano forze irradiano energia rivitalizzando risvegliando completamente il tuo potere sessuale e adesso quando ti sei reso conto che tutto questo è accaduto puoi lasciarti tranquillamente andare a nuove sensazioni a nuove emozioni e finalmente puoi decidere di aprire gli occhi sentendoti bene tranquillo tranquilla rilassato rilassata bene bene abbiamo rivitalizzato attraverso la kundalini il prima e secondo chakra fai questo esercizio molto spesso e vedrai che tutta la tua sfera sessuale ne trarrà un grande beneficio per questo video è tutto ti ricordo di iscriverti al canale youtube questo nuovo canale youtube esoterismo e spiritualità con massimo terramasco ma iscriviti anche a tutti gli altri miei canali youtube massimo terramasco crescita personale felicità benessere amore autostima e ti ricordo che su ogni canale è possibile abbonarsi per avere qualcosa in più abbonarsi è facile basta scrivere nella home page tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci ciao a tutti